Musica Crisi di governo, entro domani dovrebbe arrivare la nuova giunta Incidente mortale questa mattina a Palermo alla favorita Traffico di droga tra Ragusa e Siracusa, 20 arresti Buonasera, nuovo appuntamento con l'informazione di Media News Oggi è giovedì 23 ottobre Arsa la paralisi e crisi di governo Il presidente Crocetta ha firmato l'errevoca agli assessori Entro domani dovrebbe arrivare la nuova giunta E' durato a lungo il vertice notturno di Palazzo d'Orlean, sede della regione siciliana Il presidente Rosario Crocetta ha convocato la maggioranza Dopo che alla fine di una giornata convulsa aveva annunciato di aver firmato l'arrevoca delle deleghe degli assessori Con questo atto formale ha preso il via di fatto la crisi di governo Che come primo obiettivo ha fatto decadere la mozione di censura all'assessore alla formazione Nelli Scilabra Presenti al vertice segretari e capigruppo dei partiti di maggioranza E altri esponenti della coalizione tra i quali Totò Cardinale, Beppe Lumia e Giuseppe Lupo del PD Intanto è stata depositata anche la mozione di sfiducia nei confronti di Crocetta Mozione che porta la firma di 25 esponenti di tutti i gruppi Forza Italia, Lista Musumeci, Cantiere Popolare, MPA, NCD e Misto Con la presentazione di questo provvedimento l'assemblea regionale si fermerà per i prossimi 30 giorni Adesso l'idea è quella di affidare alla Sicilia un nuovo esecutivo già tra domani e sabato In quanto ai criteri per formare il nuovo governo tutto potrebbe esaurirsi in un semplice rimpasto Crocetta infatti propenderebbe per cambi molto contenuti Nelli Scilabra ad esempio potrebbe semplicemente cambiare delega Ma le trattative sono ancora in corso e resta aperto il dibattito sulle cose da fare Per fare ripartire il complicatissimo bilancio e la riforma delle ex province Il termine ultimo per il governatore è domani ma c'è da aspettarsi che arrivi in estremis l'ennesimo colpo di testa E per il nostro presidente non sarebbe certo la prima volta Prima dell'azzeramento della giunta regionale il presidente Crocetta ha convocato un vertice d'urgenza Per l'approvazione di provvedimenti inderogabili Il presidente della regione Rosario Crocetta in attuazione di quanto deciso con il Partito Democratico e gli alleati di governo Ieri pomeriggio prima di firmare l'errevoca agli assessori ha convocato la giunta regionale per esaminare alcuni provvedimenti urgenti Sono stati deliberati atti inderogabili Innanzitutto il piano di conversione della rete ospedaliera con cui di fatto nascono gli ospedali riuniti In questo modo si salvano e si migliorano tutti i piccoli ospedali della Sicilia e si sbloccano le assunzioni in sanità Approvato anche il DDL recante norme di tutela delle aree caratterizzate da valenza ambientale e paesaggistica Che permetterà di mettere la parola fine all'eolico selvaggio regolamentando tutta la materia E ancora definite le spese necessarie circa 35 milioni per l'avvio dei provvedimenti di prepensionamento Dei addetti alla formazione che interessano solo nel 2014 circa 1.400 persone Reperite inoltre le risorse necessarie circa 10 milioni per coprire la cassa integrazione inderoga Dei lavoratori della formazione dopo il via libera del ministro Poletti Infine è stata approvata la costituzione di parte civile della regione nel procedimento penale Nei confronti di un soggetto accusato di incendio doloso in un'area boschiva del Messinese Che avrebbe causato danni ambientali per 1.600.000 euro e per 1.000.000 nei confronti del patrimonio della regione Approvato all'Arse il DDL sulla impignorabilità della prima casa La parola adesso spetta a Roma Finalmente il DDL sull'impignorabilità della prima casa ha avuto il via libera dell'aula Dopo attese numerosi rinvisi alla Dercole ha approvato il testo targato Movimento 5 Stelle Che mira ad allentare la stretta degli enti riscossori Mettendo al sicuro uno dei beni più preziosi per il cittadino La prima abitazione Non solo il testo licenziato a Palazzo dei Normanni All'unanimità mira a mettere al sicuro pure i beni mobili ed immobili strumentali all'esercizio di impresa Il disegno di legge, prima firmataria Vanessa Ferreri, è stato accorpato da altri due sullo stesso tema Di cui uno di matrice governativa La materia trattata, affermano i deputati 5 Stelle, è di competenza nazionale Spetta cioè alla Camera, al Senato, legiferare a tal proposito Ma grazie alla legge voto abbiamo oggi la grande occasione di spingere il Parlamento nazionale su questo terreno Specie se dietro ci verranno, come speriamo, altri consigli regionali Con approvazione di DDL analoghi Su questo punto non pensiamo possano esserci steccati i partitici La prima casa non si pignora L'ex capogruppo cancellere ha ribadito l'importanza dell'interessamento del Governo nazionale al problema E in aula ha sollecitato il capogruppo del PD Gucciardi a pressare Renzi A far andare avanti il disegno di legge licenziato dall'aula Chiude Sicilia Innovazione La prima delle società della regione siciliana poste in liquidazione a uscire definitivamente dalla procedura E' una grande soddisfazione aver raggiunto questo obiettivo Ha detto l'ormai ex assessore all'economia Roberto Agnello Sicilia Innovazione era stata costituita per la progettazione e la gestione di tutta l'informatizzazione Della regione Cambiamo argomento Incidente mortale questa mattina a Palermo In via Mater Dolorosa all'incrocio con via Margherita di Savoia A perdere la vita un giovane Igor Accardo Palumbo di 31 anni Incidente mortale alle 5 di questa mattina In via la regina Margherita a Palermo Nello scontro è deceduto Igor Accardo Palumbo di 27 anni Il giovane viaggiava a bordo della lancia Ypsilon intestata alla sorella L'incidente è accaduto all'incrocio tra via Mater Dolorosa e via la regina Margherita di Savoia L'auto è finita contro un palo dell'illuminazione pubblica E poi si è schiantata contro un albero Ad estrarre il corpo dalla vettura i vigili del fuoco Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e gli agenti della polizia municipale della sezione infortunistica I sanitari del 118 hanno potuto solo constatare il decesso Presenti sul posto anche i familiari del ragazzo Che sono venuti a conoscenza dello scontro Grazie al sistema GPS di cui la macchina era dotata Una donna è morta travolta da una palma Sradicata dal forte vento in piazza Cutelli nel centro di Catania La vittima, moglie di un sotto ufficiale della guardia di finanze Era seduta su una panchina con la figlia e deceduta sul colpo Sul posto vigili del fuoco, medici del 118 e militari delle fiamme gialle E pioggia ma soprattutto vento hanno causato molti disagi Ieri a Palermo e provincia, vediamo Il maltempo investe tutta la provincia di Palermo e presente il conto Vento e pioggia si sono abbattuti nel capoluogo e in provincia Provocando danni e tenendo impegnati i vigili del fuoco e uomini della protezione civile Diversi interventi a Palermo per mettere in sicurezza i palazzi Dai quali si sono staccati i cornicioni e intonaco Maggiori difficoltà a Palazzo Steri Qui i pompieri hanno transennato la zona Un altro intervento per scongiurare altri crolli È stato messo a segno in via Anna Magnani Nella zona di Corso Calatafimi Altre segnalazioni sono giunte alla sala operativa Per alcuni disagi in corso di Emile Soccorsi anche a Capaci Dove dal balcone di un palazzo sono caduti pezzi di intonaco Caduti anche diversi alberi Soprattutto in provincia Termini merese la zona più colpita Qui una palma è caduta su un'auto posteggiata Ingenti i danni per l'automobilista Diverti anche diversi cartelloni pubblicitari Ma non finisce qui Il vento ha alimentato degli incendi in diverse parti della provincia Soprattutto nella zona di Madonna del Ponte a Balestrate Nel Parco delle Madonie a Polizi Generose e a Caltavuturo Incendi anche a Palermo Vicino a Monte Grifono a Falsomiele Edifici a rischio crolli a Palermo La procura ha convocato il sindaco Orlando Per accelerare le operazioni di demolizione Ci sono ancora troppi edifici pericolanti A rischio crollo nel centro storico di Palermo E così la procura decide di intervenire Per accelerare i tempi di demolizione E scongiurare altre eventuali stragi Ieri sera il procuratore aggiunto Leonardo Agueci ha convocato il sindaco di Palermo Leo Luca Orlando Per arrivare alla stipola di un protocollo specifico Come riporta il quotidiano Live Sicilia Ciò che urge sapere in procura È come e quando saranno avviate le demolizioni Un processo non facile Visto che sono decine e decine Gli immobili a rischio crolli Ed altrettanti processi istruiti O da istruire Per un numero di indagati Di oltre mille persone Tutte accusate di omissioni di lavoro In edifici che minacciano rovina Sulla base di un censimento del comune Sono circa 228 Gli edifici pericolanti nel centro storico E se a questi si aggiungono Anche quelli della provincia Le cifre arrivano a toccare livelli allarmanti La procura nei mesi scorsi aveva chiesto al comune Di liberare gli immobili Che i proprietari hanno ridotto in stato di abbandono Ma poiché molti di questi sono attualmente Abitati da affittuari Questi si ritroverebbero di fatto senza un tetto Perché i proprietari non hanno eseguito le manutenzioni Bisognerà dunque capire in che modo provvedere E soprattutto bisognerà farlo Prima che sia troppo tardi Traffico di droga tra Ragusa e Siracusa Blizz dei carabinieri 20 arresti Perquisizioni E sequestro di un ingente quantitativo Di sostanze stupefacenti Oltre 100 carabinieri del comando provinciale di Ragusa Hanno eseguito questa mattina Nell'operazione antidroga Chiamata Zatla Circa 20 ordinanze di custodia cautelare in carcere A un provvedimento di divieto di dimora Emesse dal GIP Su richiesta della procura della Repubblica Nei confronti di un gruppo di italiani e nordafricani Che controllavano il traffico e lo spaccio di stupefacenti Nei comuni di Vittoria, Modica, Ispica, Scicli e Rosolini Effettuate anche decine di perquisizioni domiciliari I provvedimenti restrittivi sono il risultato di un'indagine Condotta dai carabinieri della compagnia di Modica e Vittoria E delle quali è emerso che tramite soggetti di origine magrebina Gli indagati si rifornivano di cocaina, eroina, hashish e marijuana Sui mercati catanese e palermitano Per poi rivenderle a spacciatori che la smerciavano in vari centri Un grosso quantitativo di droga è stato recuperato nel corso delle indagini Il giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta di archiviazione Delle indagini sull'omicidio di Antonietta Giarrusso Uccise il 30 aprile del 2012 con 27 coltellate dentro il suo negozio di parrucche In via Dante a Palermo aveva 63 anni Sono state una quindicina le persone sospettate Il sangue trovato sulla tenda del negozio consentì di isolare il DNA dell'assassino Che però non apparteneva ad alcuno dei sospettati Domani a Palermo potrebbero verificarsi disagi alla circolazione Per l'eventuale partecipazione del personale della Polizia Municipale Allo sciopero generale indetto dalle organizzazioni sindacali USB, Cib, Unicobas, Orsa Ai cittadini che dovessero raggiungere gli uffici di via D'Ogola Gli si consiglia di informarsi preventivamente in merito al ricevimento del pubblico Sabato prossimo prenderai l'avvio alla diciannovesima stagione teatrale e musicale Del teatro Franco Zappalà di Via Autonomia Siciliana Con una straordinaria produzione L'operetta Al Cavallino Bianco Ascoltiamo il tenore Edoardo Guarnera Un'operetta divertente Un'operetta con delle musiche orecchiabili E quindi è un abbinamento vincente Farsi delle risate e ascoltare della buona musica Il cast è di primo ordine Avrete ovviamente potuto vedere i manifesti Ecco la città è piena di manifesti Vi aspettiamo Parteciperà anche il pubblico in qualche modo Però è una sorpresa Quindi vi farò partecipi del Cavallino Bianco A un certo punto dello spettacolo Vi aspetto Non vediamo l'ora di debuttare Giorno 25, sabato e domenica 26 E per poi replicare giorno 30 E il primo novembre Quindi Palermo Al Cavallino Bianco L'hotel vi aspetta Noi siamo lì trepidanti Per farvi passare due ore Lontano dai pensieri Che ognuno di noi ha Ovviamente nella vita quotidiana E per divertirvi e rilassarvi Insieme a noi Al teatro Franco Zappalà È importante che la gente ritorni A fruire di questi teatri Che devono non sopravvivere Ma vivere Ecco ha detto bene Non sopravvivere E ahimè Viviamo in un momento Io vivo a Roma E ci tengo a dire invece Che metà del mio sangue È siciliano La mia mamma era di Alcamo In provincia di Trapani Quindi Sono nato a Roma Ma le mie origini Sono profondamente siciliane E Sì Ahimè Proprio il teatro dell'opera Come avrete È a carattere nazionale Ed internazionale Ahimè Il fatto delle problematiche Del teatro dell'opera È di tanti altri teatri Questa è una cosa Che spero si possa risolvere presto Perché come diceva bene lei Il teatro è fonte di Importante Ecco Nella vita E non dovrebbe mai morire Quindi non la facciamo morire Oggi nel pomeriggio Presso la libreria Modus Vivendi di Palermo Sarà presentato il libro Targa Florio 61 Ritratti Della Siciliana Una ricostruzione di tutte le edizioni Della gara automobilistica Dal 1906 al 1977 Attraverso gli acquerelli Di Francesco Accardi I testi a corredo delle immagini Sono a cura di Roberta Zarcone Ed è tutto Grazie per essere stati con noi Arrivederci alle prossime edizioni Grazie a tutti Grazie a tutti.